Quanto sia vasto il mercato della droga lo dimostrano le continue operazioni delle forze dell'ordine. I traffici di stupefacenti inquinano l'economia legale, generano violenza, corruzione e tratta di esseri umani. Le uniche ad avvantaggiarsene sono le mafie, da sempre grandi protagoniste di questo fiorente business. Sanno sempre cogliere nuove opportunità, sfruttando al meglio le innovazioni tecnologiche e le occasioni per espandere le proprie attività in ogni parte del mondo. Quasi non c'è giorno senza notizie di blitz, arresti e sequestri di stupefacenti. Quattro solo nelle ultime 48 ore, documentate con video e foto. Ecco lo sfarzo illuso ostentato sui social nel quale viveva David Longo, considerato con i due fratelli il capo dell'organizzazione criminale che gestiva la più grande piazza di spaccio di Roma. Tor Bellamonaca, smantellata la notte scorsa in un blitz dei carabinieri con 51 arresti e un giro d'affari di 600 mila euro. A Pavia, all'alba, la guardia di finanza ha inferto un duro colpo a un'organizzazione di narcotrafficanti collegate all'andrangheta che importava cocaina dalla Sud America. 15 arresti, 8 peruviani e 7 italiani che si muovevano fra Roma, Milano, Monza e Pavia, 50 kg di cocaina sequestrati. Sempre stamattina i carabinieri del Ross hanno arrestato 9 persone in 7 province diverse da nord a sud per traffico internazionale di droga. E che la droga in Italia non sia solo un affare della criminalità di casa nostra lo dimostra l'operazione di ieri della polizia contro la mafia nigeriana con 30 arresti. Secondo la relazione dell'osservatorio europeo sulle droghe, la sola popolazione europea nel 2019 è riuscita a spendere 30 miliardi di euro per il consumo di sostanze stupefacenti.